Cerchiamo di preparare le partite fuori nello stesso modo in cui le prepariamo qui in casa e cercheremo di mettere il 100% e anche di più per finalmente ottenere questi tre punti fuori che sono molto importanti ma al di là dei tre punti sono importanti per dare continuità a quello di buono che stiamo facendo. Sinceramente stiamo cercando di analizzare durante le settimane o dopo le partite quello che non va fuori casa e sinceramente non c'è un motivo vero secondo me. Forse veramente serve quell'episodio, quella giornata giusta che faccia andare la partita nel verso corretto che poi dopo ci dà il lasso secondo me. Come dimostra questo campionato dopo queste giornate qui ancora c'è un grandissimo equilibrio quindi come dice il mister, come hanno detto i miei compagni precedentemente la classifica va guardata più avanti. È normale che stare più in su possibile fa sempre piacere perché comunque tiene sul morale e ti fa lavorare e giocare con entusiasmo e grande consapevolezza dei propri mezzi. Però noi, ti ripeto, guardiamo partita dopo partita e quindi cercheremo di prendere il massimo da lì. Una bella cosa che ho notato fin dal primo giorno che sono venuto qui e comunque ho notato ma poi dopo ci sono stati dei fatti è che la grande forza è l'unione del gruppo quindi tutti si sentono parte di questo bel progetto e tutti hanno voglia di dimostrare il proprio valore e ha maggior ragione nelle difficoltà che comunque la partita di domenica aveva sia per l'avversario e sia per le tante assenze e defezioni che c'erano nel nostro gruppo ed è lì che viene veramente fuori la forza e l'unione dei ragazzi, dei professionisti che ci sono all'interno della squadra. Sì, sicuramente è una vittoria che dà un segnale a noi stessi più che altro nel senso che comunque ci fa capire che tutti veramente possiamo dire la nostra qua. Cambia un po' perché appunto dice la parola destra e sinistra quindi nel senso cambiano le varie posture, movimenti, lo sviluppo del gioco eccetera però io cerco sempre di fare il mio meglio e di mettere a disposizione le mie caratteristiche al gruppo. Si può prevenire con il lavoro settimanale, nel senso lavorare in una determinata maniera e quello che dice il mister è giusto, lo condividiamo tutti, non solo io. rimanere alla partita lui intende il fatto di essere presenti sempre durante tutto l'arco della partita nel senso quando le cose vanno bene spingerà al mille per mille e quando c'è un momento di difficoltà stare sul pezzo e veramente non mollare di un centimetro però anche magari quando nel dieci minuti di una partita la squadra avversaria ti può mettere in difficoltà quindi comunque curare tutti i dettagli e non calare mai l'attenzione. Dopo un primo tempo comunque equilibrato in cui comunque noi non abbiamo concesso niente a loro e siamo riusciti a creare qualcosina a noi e ci siamo accorti sia noi che poi il mister ce l'ha detto durante l'intervallo insomma che dovevamo cambiare un po' il ritmo di gioco e la velocità della palla e la velocità delle idee soprattutto e penso che il modo in cui ha iniziato il secondo tempo sia emblematico nel senso subito avanti, subito forte, subito di prima e così è iniziato il secondo tempo e così si è sviluppato. Mi piacciono tutti e due, sono sincero perché a me piace giocare tanto la palla mi piace muoverla, mi piace stare dentro la partita come dice il mister e mi piace essere protagonista, quindi sia a tre che a quattro che a cinque per me non c'è nessun problema, mi trovo bene sempre.